Il reboot di Benten può essere considerato un dito medio alla serie classica e a tutti i fan per i semplici motivi. 1. Lo stile è diverso e troppo cartoon. 2. Appaiono più nemici nuovi invece degli originali. 3. Non esistono i risolutori. 4. Kevin l'hanno reso brutto. 5. Il finale dell'ultimo episodio e stagione è deludente. 6. L'OmniTrix inizia ad avere aggiornamenti non richiesti a inizio stagione. 7. Pungiglione non ha la coda nonostante il nome. 8. Non appaiono bestiale, pelle d'oca, vomito e altri alieni carini o belli, anche mastica. 9. Non hanno nemmeno usato Clancy o un alieno dei concept conosciuto come Digger. E per finire con 10, hanno modificato tutto in un redesign non richiesto. Condividete le vostre opinioni nei commenti.